Sul successo di questa iniziativa abbiamo sempre creduto, ma eravamo anche consapevoli dei grossi problemi che avremmo incontrato nella regolarizzazione documentale e catastale urbanistica. Ma il grosso lavoro di squadra è quello che ha consentito di avere successo e trasformare un generatore di costi, come erano questi beni, in generatori di ricavi, di investimenti e di posti di lavoro.